ah 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 si è stato rapido ah ah si ok scusa ma non hai paura? ma tu lo sai chi sono io? sentiamo chi sei un pirla da solo in macchina ah 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 simpatico io sono nipote di Putin ah 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 il nipote di Putin si va bene e io sono il cugino del babbo natale ma stai zitto va Zapuscarte e racchete Cosa che hai detto? Addio bello E dove credi di andare? Mannaggia Mi è scappato Vabbè dai Almeno posso vendere sta macchinetta